Oggi in un luogo in cui ci sono libri con parole sante, in cui ci sono testi straordinari, io devo parlare di un mio peccato, un peccato di invidia, perché io invidio il Maestro, lo invidio perché tutti quando andiamo nella Cappella Sistina alziamo la testa e rimaniamo lì emozionati. No, lui è stato lì, lui ha toccato praticamente Michelangelo, lui ha visto centimetro dopo centimetro, millimetro dopo millimetro, colore dopo colore, che cos'è questa opera straordinaria di Michelangelo. E oggi presso la libreria editrice Vaticana, in Via di Propaganda, ricordate Via di Propaganda a Roma, ci siamo visti tante volte, ecco c'è questo momento emozionante, l'incontro con il Maestro che ha curato, per quanti anni Maestro? 14 anni. Per 14 anni il restauro della Cappella Sistina. Ecco per questo, dicevo, l'invidia, l'invidia Maestro. Che cosa è stato essere lì sui ponteggi a tu per tu? Lei è entrato nell'animo di Michelangelo praticamente? Sì, penso di sì. Perché io non ho detto che oggi, sì, l'incontro straordinario con questo Maestro, io e Michelangelo, sono 14 anni di restauro della Cappella Sistina, della Cappella Sistina, ma ci vorrebbero delle ore per capire, perché innanzitutto, brevemente, quali sono stati i danni che lei ha rilevato che erano danni che potevano inficiare la bellezza di quanto aveva fatto Michelangelo? Ma guardi, i danni erano di due tipi, alcuni molto antichi e che però derivavano dagli spostamenti strutturali della Cappella, quindi danni di origine architettonica, mentre invece poi c'erano quelli più frequenti, che erano le infiltrazioni d'acqua piovana. E a quel punto, siccome l'intonaco usato da Michelangelo era un intonaco di Pozzolana fortissimo, non ha subito molti danni, anzi direi pochi, ma ha richiesto l'intervento di restauratori. I restauratori in quel tempo e neanche tanto tempo fa usavano ancora delle sostanze da mettere sopra, mentre oggi tendiamo a togliere quello che non è originale. In antico aggiungevano sostanze che al momento servivano a tirare su di tono gli affreschi, a farli vedere meglio, portavano delle correzioni sui danni, eccetera. E tutto questo è successo sugli affreschi di Michelangelo che sono in perfetto stato di conservazione, tranne una percentuale minima che si è danneggiata, ma che noi da sotto neanche vediamo. Quando siamo a 20 metri lontano dalla pittura non la cogliamo. Però i restauratori mettevano queste materie che erano delle colle, degli oli, delle resine, fiele di bue e a lungo andare si alteravano e fissavano anche tutta la polvere e il fumo delle candele che nei secoli si accumulava, si accumulava. A quel punto la pittura intatta di Michelangelo con i suoi colori in affresco perfetti andava scomparendo dietro questa pelle che si formava. In pratica il nostro lavoro è stato quello di togliere questa pelle e mettere che venisse in evidenza la pittura vera di Michelangelo. E quindi è tornato allo splendore. Sì ma c'è qualcosa di particolare. Quando si fa un restauro c'è il maestro, ci sono gli aiuti e quant'altro. Questo è stato un restauro particolare perché era una continua visita di regnanti, di uomini, di cultura. Tutti volevano vedere come il maestro Colalucci stesse riportando alla luce straordinaria il dipinto di Michelangelo. Chi è passato? Chi è che poi le chiedeva? Perché so della regina d'Inghilterra, so di altri... Anche l'imperatore del Giappone e veniva ogni anno Margaret d'Inghilterra. E poi sono venute circa 7.000 persone, tutti o restauratori o soprattutto storici dell'arte. E questo ha fatto sì che noi abbiamo dato la possibilità a una quantità di persone addette ai lavori di vedere come il lavoro si svolgeva e di vedere da vicino, soprattutto Michelangelo. Quindi insomma questo maestro, perché non era visitare la Cappella Sistina, ma capire come il maestro Colalucci riportasse a vita questa cosa straordinaria. Per cui questo giovine signore, posso chiedere la sua età? Percivetteria me la vuole dire? Certo che gliela dico, 86 anni. Ecco questo giovine signore di 86 anni, oggi qui presso la Levin, via di propaganda, presenta questo libro. Io lo devo far rivedere perché credetemi è soltanto emozione pura sfogliare le pagine di questo libro e leggere che cosa è stato. E poi appena potete, sia i romani sia i turisti, correte alla Cappella Sistina, rivedetela. Adesso vedetela con un occhio diverso perché sapete che cosa è stato averlo riportato a questo splendore. Tanti cari auguri al prossimo restauro! Grazie. E questo era l'ultimo incontro di questo ciclo dei venerdì di propaganda presso la libreria editrice vaticana. Incontri che ci hanno permesso di conoscere persone, storie, luoghi di straordinario interesse e valore, che ci hanno emozionato. Arrivederci a loro al prossimo ciclo. Ma comunque i volumi e libri che ci hanno appassionato sono lì che ci aspettano.